Ciao a tutti amici, oggi vi presento gli orecchini completi, come posso vedere quelli glitterati col componente, questi sono quelli grandi, questi sono i piccolini, eccoli. E questi sono quelli quadrati, allora, due chiacchiere su come li ho montati, allora come possiamo vedere ho montato, andiamo ad alzare per essere che si vede meglio, ecco, un anellino e un del tuo damo, cioè questi, un anellino di questa misura, che l'ho andata a passare nel foro e ci ho inserito uno di questi gancetti, aiutandomi con le pinze, sia per il grande che per il piccolo, invece per quello quadrato, cioè quella a doppia faccia, come vediamo, è stato montato con un chiodino AT, il chiodino AT, io lo chiamo chiodino AT, ed è questo, perché tiene una punta esterna, dove noi andiamo a mettere le nostre perline, non cadono. Allora, ho inserito una perlina gialla nella parte glitterata e una perlina arancione nella parte scritta. ho fatto un'asolina, non so se si riesce a vedere per bene, ecco, ho fatto un'asolina e ho montato il gancetto a damo, così noi possiamo indossarli sia dalla parte glitterata e sia dalla parte scritta. Ragazzi, che dirvi, un saluto a tutti da Claros Design.